Con l'avvicinamento alla stagione estiva ripartono gli arrivi dalla rotta baicanica. Dopo una serie di segnalazioni sulla zona boschiva fra Trebiciano e Padriciano, nella zona della pista ciclopedonale, la polizia locale ha organizzato una serie di controlli che il 12 maggio si sono concretizzati nei primi fermi. Due auto con alla guida due cittadini ucraini che trasportavano complessivamente nove migranti. Gli agenti hanno bloccato un primo veicolo con targa della Repubblica Ceca tra i mezzi Civetta in un tratto stretto. A bordo c'erano oltre il conducente sei migranti egiziani di età compresa tra i 17 e i 35 anni. Dopo qualche minuto l'arrivo di una seconda vettura con targa ungherese. Il conducente ha accennato una reazione cercando di afferrare un coltello a scatto ma è stato tempestivamente fermato dagli operatori. A bordo del secondo mezzo c'erano tre cittadini siriani, anche in questo caso privi di documenti. I due passer di 27 e 42 anni sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e reclusi al carcere del coroneo, sequestrati i veicoli. Per due dei nove migranti è stato disposto il respingimento con affidamento alla polizia slovena. Un minorenni invece è stato affidato a una struttura cittadina convenzionata. Gli altri sei uomini, avendo espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale, sono stati denunciati per il reato di ingresso illegale sul territorio italiano.